È la migliore, l'app professionale per iniziare a sperimentarti con il video e montarli direttamente dal tuo telefonino. Si chiama KineMaster e dopo la sigla ti svelo ogni segreto. Ben ritrovati immaginativi su questo canale dedicato a te che vuoi raccontare la tua impresa in video, anche e soprattutto attraverso YouTube. Ben ritrovati immaginativi su questo canale dedicato a te che vuoi creare video belli, che si fanno guardare. Iscriviti se vuoi rimanere aggiornato su programmi, strumenti e strategie per raccontare la tua impresa in video, anche e soprattutto attraverso YouTube. Programmi e applicazioni per iniziare a montare i tuoi video, ce ne sono tantissimi, tanti te li ho mostrati negli episodi precedenti e oggi è il turno di KineMaster, che a mio avviso è la migliore app per iniziare a editare i tuoi video direttamente da smartphone e tablet. Sì perché funziona nello stesso modo, ma a mio avviso con un tablet è più semplice perché le dimensioni contano e tagliare, riordinare, applicare effetti alle clip nei 16 pollici di un telefonino diventa un pochino complesso. Dipende sempre comunque dal numero di tagli e di elaborazione che vuoi fare, ma adesso vediamo insieme come fare. KineMaster è multipiattaforma, questo significa che funziona sia su sistemi iOS che Android. Ha un piano in abbonamento, ma la puoi testare senza limiti nell'esportazione per lunghezza, qualità e numero di clip importate. C'è un però, certo, perché anche loro devono fare business, il video esportato ha un logo in alto a destra e poi nella versione in abbonamento c'è una libreria molto più ampia, ma lo vedremo meglio dopo. Devo dire che nel panorama delle applicazioni per editare video con il tuo telefonino, l'offerta di KineMaster è molto generosa, perché ti lascia testare il programma senza limiti di tempo e non è sempre scontato. Queste sono le tariffe attuali, comunque in questo articolo ho raccolto varie applicazioni con lo stesso livello di professionalità di KineMaster e qua sotto in descrizione ci sono molti più link ad applicazioni più semplici e più immediati e altri strumenti utili per creare video con il tuo telefonino. Aggiungo anche che io personalmente uso l'UmaFusion, che però ha lo svantaggio di girare unicamente su piattaforme iOS e di non avere una versione di prova. Siamo col creare un nuovo progetto. Come prima cosa scegli il formato, verticale, quadrato o orizzontale. Si apre questa schermata. Puoi registrare i video direttamente nell'app, cliccando sul tasto rosso con il simbolo dell'otturatore. Personalmente però è una cosa che non faccio mai e non mi sembra neanche funzionale farlo. Andiamo quindi alla funzione galleria per importare le clip. Naviga fino alla cartella dove magari hai già raccolto le clip che vuoi utilizzare, oppure magari puoi usare i preferiti, oppure semplicemente sono le ultime che hai registrato. E appena tocchi un file, video o foto, questo si posiziona direttamente sulla timeline, anche se magari non te ne accorgi subito perché la timeline avanza. Ricordati però che per quanto ti è possibile cerca di selezionare i video già nell'ordine in cui andrai a montarlo. Questo perché ti semplifica e velocizza il lavoro successivamente, anche se è comunque sempre possibile riordinare le clip. Quando hai finito l'importazione, clicca sulla spunta e ti trovi davanti la timeline. Per navigare sulla timeline devi continuamente ingrandirla e rimpicciolirla, lavorando appunto con le due dita per lo zoom in avvicinamento e in allontanamento, un po' come qualsiasi altra applicazione. Ora vediamo le funzioni basilari di editing. Innanzitutto la rifinitura per accorciare o allungare la clip. La selezioni, a questo punto i contorni si colorano di giallo e puoi trascinare l'estremità verso l'interno per accorciare la clip e magari di nuovo un pezzettino verso l'esterno per allungarla nuovamente. Puoi riordinare le clip, seleziona la clip, tieni premuto per qualche secondo e poi la sposti avanti e indietro sulla timeline fin quando hai trovato la posizione che preferisci. Puoi ovviamente cancellare una clip e puoi anche aggiungere nuove clip. A questo punto devi posizionare il marcatore del tempo, quella linea rossa che ti fa vedere il punto in cui ti trovi e poi seleziona galleria e aggiungi una nuova clip. Con il tasto musica puoi aggiungere una colonna sonora per tutto il tuo filmato. L'applicazione ti rimanda allo shop ma puoi anche caricare la musica che è già sul tuo telefonino ovviamente controllando di avere i diritti per la sincronizzazione. Oppure ci sono anche una serie di effetti sonori che l'applicazione ti mette a disposizione nella versione in abbonamento. Un'altra funzionalità molto molto utile è la possibilità di registrare un commento audio direttamente nell'applicazione. Questa è una funzionalità utilissima perché velocizza il lavoro per tutta una serie di video dove tu hai una serie di immagini montate e vuoi raccontare quello che sta succedendo. Se vuoi un filmato lineare senza troppi effetti e grafiche ti puoi fermare qua e puoi esportare. Certo non stai utilizzando al 100% le funzionalità di KineMaster ma ti assicuro che non ci sono tante applicazioni che permettono il montaggio video direttamente da smartphone senza limitare il test per un periodo di prova. Una volta creato il nostro progetto base possiamo andare a regolare le impostazioni di ogni singola clip che sia audio, foto o video. Ora vediamo come fare. Seleziona la clip e assicurati che i contorni della clip siano gialli. Vedrai che a questo punto appare un menu in alto a destra. Ci sono tantissime funzioni e ne vediamo alcune insieme. Con la forbice puoi dividere in due la clip. Ad esempio per usare la prima parte in un punto del tuo filmato e la seconda in un altro. La funzione zoom è utilissima e io ci ho messo un pochino a capire come funzionava. Quando hai selezionato l'uguale e diventa rosso anche i bordi delle due anteprime significa che il primo fotogramma è identico all'ultimo fotogramma della tua clip. È utile ad esempio in queste situazioni quando devi riadattare un video girato in verticale ad uno orizzontale oppure viceversa come in questo caso e quindi vuoi mostrare solo una porzione del tuo video e vai a selezionare quale sarà la nuova inquadratura. Quando l'uguale non è selezionato e quindi non è rosso significa che la prima inquadratura della tua clip è diversa dall'ultima. Le scegli e in automatico KineMaster ricreerà un movimento di zoom in avvicinamento, in allontanamento oppure una panoramica orizzontale o verticale che sia. Tu semplicemente vai a selezionare la prima inquadratura e l'ultima con un movimento di zoom o di scorrimento. Questo effetto è particolarmente utile quando stai montando delle fotografie che sono ovviamente statiche ma hanno allo stesso tempo una maggiore risoluzione rispetto al video e questi movimenti aggiungono un tocco cinematografico al tuo video finito. La terza funzione è quella del volume ed è interessante perché KineMaster ti dà la possibilità di lasciarlo automatico quindi sarà il programma che andrà a intercettare i punti dell'audio in presa diretta interessanti che tipicamente sono quelli in cui viene rilevata la voce umana a questo punto verrà abbassata la musica inserita come sottofondo viceversa quando non vengono rilevate cose interessanti nell'audio automatico verrà alzato automaticamente il volume della musica. Questa è una funzione interessante perché nei programmi classici questo lavoro va fatto manualmente ovviamente il programma può sbagliare e quindi puoi anche impostare tutte quelle funzioni manualmente. Nella terza linea ci sono quelle modifiche classiche quindi rallentare, accelerare oppure invertire la clip scorrendo verso il basso le funzioni ci sono tantissimi altri filtri audio e video su cui non mi dilungo perché la maggior parte rimandano allo shop ci sono alcune funzionalità interessanti come ad esempio l'equalizzatore per aggiustare i livelli della voce oppure la regolazione dell'immagine con le basilare funzioni di luminosità, contrasto e tonalità siamo quindi arrivati ai livelli che significa che si va a sovrapporre un altro livello di testo o di immagine alla traccia principale di montaggio. Funzionano un pochino come le tracce nei classici programmi di montaggio da desktop ed è la funzione prevalente in cui KineMaster e gli altri programmi che io definisco professionali si differenzia rispetto a programmi molto basici come ad esempio Quick Stories o InShot. clicca su livelli e ti si aprono tutte le possibilità la prima e la principale è l'aggiunta di immagine che si sovrappongono parzialmente o completamente alla tua traccia di montaggio principale questa funzione è utile in tutti quei video esplicativi dove tu puoi registrare una persona che parla e spiega e a un certo punto sovrapponi delle immagini che mostrano o in qualche modo vengono associati a quello che la persona sta dicendo. Ci sono gli effetti su cui non mi dilungo perché per la maggior parte rimandano allo shop anche se ti posso dire che dallo shop puoi scaricare gratuitamente la funzione vignetta sui test invece dico qualche parola in più perché so essere una delle funzionalità più ricercate nelle applicazioni di montaggio video da cellulare scrivi il tuo testo, dai la spunta e a questo punto puoi modificare la posizione semplicemente tenendo premuto e spostando il tuo testo all'interno dell'inquadratura oppure usare il menu laterale per modificare carattere e colore l'animazione in entrata e in uscita l'allineamento dei testi oppure l'opacità e ancora contorno e ombreggiatura insomma tutte quelle funzionalità che si trovano anche nei programmi di videoscrittura con il livello copertura indica che si vanno ad aggiungere degli adesivi quindi delle grafiche statiche e animate che aggiungi al tuo video ma per la maggior parte si rimanda sempre allo shop l'ultimo livello invece è spettacolare almeno per me che sono abituata a lavorare con programmi da desktop perché puoi scrivere direttamente sul tuo video e questo significa che puoi aggiungere scarabocchi, scritti a mano libera, freccettine segni che possono essere molto utili e quantomeno originali perché creare la stessa cosa con dei programmi da desktop è veramente più complicato perché devi usare programmi esterni e tutto diventa un pochino più macchinoso ultima cosa i livelli si aggiungono sotto la traccia principale è un pochino controintuitivo ma alla fine ci si fa l'abitudine quasi dimenticavo l'esportazione è il solito simbolino con la freccia rivolta verso l'alto le opzioni sono il formato ma ti consiglio di lasciare full HD 1080p la frequenza di fotogrammi al secondo e anche lì non cambiarlo generalmente per i video girati con il cellulare la frequenza è 30 fps e il bitrate che corrisponde alla qualità ma anche lì se lo alzi significa che aumenti anche il peso del formato esportato sono alla fine di questo episodio che mi sembra lunghissimo lasciami un like se questa applicazione ti è piaciuta oppure in alternativa scrivimi qua sotto nei commenti che cosa cerchi in un'applicazione per montare video direttamente dal tuo cellulare se hai voglia raccontami anche qualcosa di più del tuo progetto e ricordati che se la tua idea è quella di creare un canale youtube ho creato apposta per te un corso gratuito in 7 mail lasciami il tuo indirizzo qua di fianco che te lo scrivo che te lo mando e ora è il momento di mettere in immagine la tua storia per creare la visibilità che meriti grazie 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 grazie